Salve ragazzi, oggi parleremo delle 5 regole che dovreste seguire per promuovere quello che avete scritto. Che voi siate stati pubblicati da un grosso editore, da un medio, piccolo, microeditore o siate in self, queste regole vi serviranno comunque. Partiamo subito con la regola numero 5, niente invadenza. Se scrivete, siete lettori, recensite libri, avete una pagina di Facebook o anche solo un account, vi sarà capitato senza dubbio di ricevere dello spam. Cioè, diciamo, della pubblicità indesiderata da parte di autori. Sì, purtroppo gli autori sanno essere fastidiosi, molesti e maleducati, però spesso lo fanno senza una vera consapevolezza di come stanno agendo. E io sono qui per dirvi, non fatelo mai. Visto il mio lavoro, vista la mia attività e quello di cui parlo sui social, a me capita veramente ogni giorno, tipo, è una cosa molto fastidiosa. Mi è capitato persino di ricevere l'immagine di Locandina di una presentazione che si sarebbe tenuta a Napoli e io vivo a Milano. Così, senza nemmeno un ciao da una persona con cui non avevo mai parlato e che non conosco. Quindi, secondo voi, quante sono le probabilità che io sia andata a Napoli per questa presentazione? Dunque, a cosa è servito questo annuncio, questa pubblicità che mi viene schiaffata in faccia così, senza minimamente considerare chi sono, un saluto, non lo so, chiedere attenzione con una certa educazione, insomma. Se avete una pagina e continuate a mettere solo il link, quello è comunque spam. Se sui vostri profili non fate altro che nominare il vostro libro e mettere il link ad Amazon, un estratto, la copertina, quello che volete, quello è comunque spam. Quindi, non spammano solo gli autori che lo fanno sui gruppi, per esempio, a caso, senza alcun riscontro, ma lo facciamo tutti nel momento in cui non facciamo altro che ripetere la stessa cosa a un pubblico a cui quella cosa non interessa per niente. C'è gente che contatta lettori su Goodreads, non lo so, da tutti i lati, su Instagram, veramente ovunque. Ecco, questo non si fa. Andiamo avanti. Regola numero due, facciamo parlare gli altri. Questo è difficile perché comunque c'è bisogno che qualcun altro abbia voglia, tempo, insomma, interesse per parlare del nostro libro. Però sono proprio i lettori che convinceranno altri lettori, grazie al famoso passaparola, molto di più di quanto farà il nostro link spammoso. Se siamo degli autori un po' furbi, potremmo cercare di dare il via al passaparola. Cioè, magari, non lo so, un nostro amico può parlare del libro, una persona che conosciamo, un blogger che seguiamo, senza diventare degli stalker, però, dei blogger che seguiamo. Ho parlato in un altro video di come potremmo approcciarci, insomma, ai booktuber o cose di questo genere, ve lo linko. Però, se riusciamo comunque a fare breccia nel cuore di qualcuno, di un lettore che comincia a parlare di noi, è molto meglio far parlare una persona terza che non parlarci addosso da soli. Cioè, pensateci, se io mi recensisco da sola, se continuo a parlarvi del mio libro da sola, se non faccio altro che ripetervi ogni giorno quanto è bello il mio libro, quanto è bello il mio libro, quanto è interessante, dai, compralo, ecco il link, dai, compralo. Cioè, secondo voi questo è interessante? Un lettore si incuriosisce se altre persone si sono incuriosite prima di lui, quindi dovete dare modo ai lettori di vedere che qualcuno vi sta leggendo. Se nessuno vi sta leggendo e non vi leggerà nessuno, c'è un problema, no? Quindi cerchiamo di trovare i primi lettori, di aprire un canale di comunicazione con loro innanzitutto e di incoraggiarli a lasciarci una recensione, a parlare di noi, ai loro amici, a postare sui social qualcosa che ci riguarda, non so. Regola numero 3. Mostra qualcosa di te. Come dicevo prima, appunto, la gente si avvicina a te come autore se vede qualcosa di interessante e quindi quello che tu posti sui social, quello che ci dici di te, ha una grandissima importanza. Non essere sempre arrabbiato, non essere maleducato, non fare dei post pieni di rancore, non esagerare, non cavalcare ogni singola polemica, non condividere un post sulla politica, la religione, se hai delle opinioni molto estreme. Qui, l'ho già detto in altri video, dico, sei libero di farlo se ci tieni i cavolacci tuoi, però non è una grande idea se vuoi attrarre l'attenzione dei lettori. E questo vale per tutti i tuoi canali social. Comunque, appunto, devi mostrare qualcosa di te che sia interessante. E questo spetta a te deciderlo. Cioè, cos'hai di interessante se non lo sai tu? Se non c'è niente di interessante in te, dovresti riflettere sulla tua idea di promozione perché puoi scegliere o ti esponi tu e quindi condividi tu qualcosa di tuo oppure saranno gli altri a farlo se sei comunque interessante al di là della tua voglia di condividere. Per esempio, spesso mi dicono gli autori Eh ma l'autore X è diventato famoso, non ha account sui social, non si promuove, non fa nulla. Sì, bravissimo lui, ma evidentemente ha trovato altri modi per farsi conoscere. Per lui ha funzionato, per te magari no. Quindi, boh, se tu sei sicuro che tutti ti conosceranno comunque, vai, sereno. Però è dura specialmente all'inizio, quindi qualche idea ce la dobbiamo far venire. Cosa possiamo mai condividere? Tutto quello che vi pare, anche solo, come dicevo in un altro video, il processo di scrittura. Perché siete finiti lì a promuovervi? Cosa volete da noi e, insomma, cosa state combinando? E su questo vorrei dire, molto chiaramente, ci vogliono dei tentativi per capire come porsi, cosa condividere e cosa funziona e cosa no. All'inizio fallirete, come tutti noi. Farete delle cose un po' imbarazzanti. Io stessa adesso riguardo i primi video che ho girato e mi sento... Però, provando e riprovando, si migliora, si cresce, si va avanti. Cominciate a trovare delle persone che vi seguono, che si interessano a quello che fate. Quindi, porca miseria, partite, altrimenti... Regola numero 4. Cura i testi di presentazione. E questo devo dire che gli autori, purtroppo, lo sottovalutano tantissimo. Quando scrivete un comunicato stampa, da magari inviare a tutti i blogger o le testate, quando fate dei post su Facebook, quando mandate dei messaggi o delle email, prima di tutto scrivete in italiano, perché, ragazzi, vi state proponendo come un autore di narrativa o anche di saggistica, ma se non conoscete l'italiano, cioè non siete in grado di rispettare la grammatica in una mail o in un post, non date una bellissima impressione. Lo so che un refuso capita a tutti, capita anche a me, per carità un refuso non cambia nulla, però se in ogni post ci sono 18 refusi, lo so, state più attenti, porca miseria. Quindi, se intendete chiedere ai lettori di darvi attenzione, non lo fate in ostrogoto, fatelo in italiano. E al di là della forma, anche per quanto riguarda il contenuto, dovete sempre essere interessanti, dovete essere coinvolgenti, dovete convincerci a darvi attenzione, quindi non lo scrivete a caso quello che poi condividete. Pensateci bene, con calma, se potete fatevi aiutare da un professionista, se non potete fatelo da soli, però, non lo so, provate a farlo in maniera decente. Per esempio, evitando di elogiarvi da soli, di dire questa è una bellissima storia, cioè ma l'hai scritta tu, cosa ti dici che è bellissima da solo? Questo sembra interessante, cioè a me no, perché uno sta lì a ridere, a dire ma guarda l'ha scritta lui e se lo dice da solo. E soprattutto non dite mai questa è una storia necessaria, vi scongiuro non ditelo, mai più. Basta. Regola numero 5. Il tuo atteggiamento conta molto. Come ho detto prima, appunto, state attenti a come vi ponete, sia quando condividete dei contenuti, sia con gli altri, per esempio con i lettori. Se ricevete una critica dovete essere dei signori, dovete farvi dire dagli altri guarda con che stile si piglia le critiche, guarda che bravo quest'autore che ascolta, che ringrazia comunque per aver letto e gli dispiace che non hai credito il suo libro. Cioè una persona che ha pagato, si presume, per leggerti, tu la devi ringraziare. Poi se ti sta sputando in faccia, può essere pure un gran maleducato, non devi dare spazio al rancore personale, perché basta, quello ha pagato per leggerti, grazie, mi dispiace che tu non abbia gradito, spero di fare meglio la prossima volta. Buona giornata. Stare lì tre ore a fare i flemmoni, come si suol dire, sui commenti, rispondendo con brutte parole, insultandosi, lanciandosi oggetti a vicenda, non dà un bello spettacolo. Se c'è una persona che lo sta facendo a voi, ignoratela, bannatela, non lo so, però finché potete rispondere in maniera cortese a qualcuno, oppure se è un maleducato, ci fate un'ottima figura. Ora, evitate di vendicarvi di altre persone con un post, evitate di, non lo so, condividere messaggi personali che qualcuno vi ha mandato, evitate di sfogare la vostra frustrazione. La vita è dura per tutti, ragazzi, però se tutti ci mettiamo a lagnarci ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, non ci si sopporta più. Quindi l'atteggiamento che avete anche nei confronti del vostro libro conta per dire, no? Se io dico, porca miseria, ho venduto solo 100 copie, mi sono impegnato tanto per questo manoscritto, ci ho speso anche i soldi per l'editing e nessuno lo caga, mamma mia, siete tutti degli stronzi, dovete morire. Oppure posso dire, cavolo, ho venduto 100 copie e sono tanto contento che questi 100 lettori mi abbiano dato la loro fiducia, aspetto con ansia i loro pareri, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. E se anche voi volete fare parte della nostra squadra, questo è il link. Cercate di dare di voi un'immagine più positiva possibile, non mentendo, perché le copie sono sempre 100, insomma, no? Non è che dovete dire, ho venduto 10.000 copie quando erano 100, però lo puoi dire in un certo modo per farlo sembrare una cosa più carina. Perché, come dicevo prima, la gente si interessa più facilmente a qualcosa che già ha avuto successo. Quindi, ripeto, senza mentire, perché poi vi sgamano, però parlate dei successi, parlate delle cose belle, parlate dei momenti di soddisfazione. Bene, queste erano 5 regole per promuovere il tuo libro, vi ringrazio per avermi guardato e ci si vede al prossimo video. Ciao!